Musica Benvenuti alla sezione di Siena del Museo Nazionale dell'Antartide. Io sono Franco Talarico, docente di petrografia, la scienza che studia le rocce, presso il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena. In Bright 2017 abbiamo il Museo Nazionale dell'Antartide con i vari ricercatori che qui lavorano nelle varie discipline, dalla geologia, alla biologia, alla geomorfologia, alla scienza che studia la dinamica dei ghiacci. Abbiamo davvero il piacere di invitarvi e insieme a noi fare esperienze, esperienze dirette, vivendo in maniera reale e concreta quella che può essere la vita del ricercatore in Antartide. Avremo quindi una simulazione di un campo remoto con tutti gli strumenti e gli equipaggiamenti che sono normalmente utilizzati nella ricerca in Antartide. e nel nostro museo farete anche esperienze dirette sulle rocce, le migliaia di rocce, di campioni, rocce e meteoriti che qui sono conservati, andando anche a fare esperienze di studio reale nel mondo infinitamente piccolo, andando anche alla scala del microscopio. Quindi siamo felici di incontrarli, avremo due sedi durante la notte dei ricercatori, una in piazza Sant'Agostino dove avremo il campo remoto e dove inizieremo un gioco, un percorso con voi per poter poi visitare e fare ulteriori esperienze nella nostra sede del museo in strada di Laterino. Grazie a tutti.